Abbiamo provato a contattare telefonicamente il comandante della Polizia Municipale di Gallipoli, Antonio Morelli, finito al centro di una gogna mediatica per il video diventato virale in rete, che lo ritrae mentre effettua il sequestro di parte di tavolini e sedie ad un ristorante nel centro storico di Gallipoli per occupazione abusiva di suolo pubblico, ma preferisce non rilasciare dichiarazioni. Il video però è stato allegato ai verbali inviati in procura. Intanto, scovando nel passato della Gallipoli Bella, scopriamo che nel 2019 la Municipale ha effettuato soltanto sanzioni come previsto dal Codice della Strada, ma non sequestri come regolamentato dal Codice Penale. L'unico sequestro effettuato in tutta l'estate scorsa è quello di un paio di gazebo installati abusivamente da un'attività commerciale su lungomare Galilei e per di più eseguito a fine agosto. Questo probabilmente avrà sollevato qualche malumore tra l'amministrazione comunale stanca delle continue lamentele di abusivismo e il comando della Municipale, che comunque aveva addirittura aumentato il numero delle sanzioni elevate rispetto alle stati precedenti, ma evidentemente a Gallipoli c'è chi preferisce pagare multe, sapendo di puntare sugli incassi che rispettare le regole. Per l'estate 2020 quindi il comandante Morelli avrà pensato bene di agire di anticipo e oltre ad elevare sanzioni ha anche effettuato sequestri. Quello avvenuto lunedì e nelle scorse ore convalidato dal Tribunale infatti non era l'unico sequestro della stagione, così come dichiarato dal sindaco di Gallipoli Stefano Minerva, anche il corpo di polizia locale afferma di aver provveduto più volte a sollecitare i commercianti a rispettare le regole, prima di passare dai controlli ufficiosi a quelli ufficiali.